Ecco qui la testa che sta per cominciare, lo ritmo tra la gente che ti prende, non ti puoi fermare, la gente sono aperta, si entra nella testa e si sposta, vada 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 dai vai vai vai, non ti muovi ma 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 non ti mu La musica ci presta, come il vento che porta via, senti questo ruolo che rimpera la venta, c'è un luogo che ci chiedi all'improvviso, vai vai vai, non per passi, vai, non per passi, non per passi, non per passi, prima o male, la musica ci fissade, non per passi, non per passi, non per passi, non per passi quindi possono dire una vita, vuoti, 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 che cosa sarà, Sforio Non sono le terre, non sono le terre, primo bar, dica l'arma, dove arriva? Tanta, 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 senti e batti, batti il cuore, con il ritmo della vita, vuoi, 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 che notte sarà? Salita, vuoi, vuoi. Sotto, se v' Assotto rai marche, vuoi, 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 vuoi. Tanta, storia stocchi, t'attiva, provochi, t'attiva.